Stimatissimi Vapors, benvenuti nel mio mondo. Innanzi a me e a voi c'è una pushette di natura vellutata, guardiamo il suo contenuto. Si chiama K-mini o K-mini, ma credetemi di mini qui c'è solo la sua dimensione. Direttamente da Italica Box Mod dal maestro Franco Camicia e questo omino qua. Questo è il modello K-mini e questa è la versione fatta in legno, le trovate anche in derling naturalmente. Il certificato di autenticità firmato con mio enorme piacere by Franco Camicia. Signori permettetemi di presentarvi la K-mini. Questo è lo sportellino d'apertura con il suo treno a vapore con la scritta Italica. Questa è la parte superiore dell'atomizzatore, come potete notare una piccola caratteristica. Il sistema del pin è qualcosa di completamente diverso, esce dagli schemi. Questa è un'asola che poi verrà chiusa con questa sezione qui che ha la dicitura K-mini. In questo momento io non l'ho inserita esclusivamente perché non ho installato ancora la mia 18650. Un magnete in questa sezione. Facendo questo piccolo movimento vado ad aprirmi il sportellino con due magneti che effettueranno la chiusura sulla mia 18650. Questa è la parte interna della K-mini. In questo caso installa delle lamelle in rame. C'è solo la lamella del negativo. Vedete il dado è dato dal collegamento del negativo della nostra tazza. Quindi la nostra accensione sarà esclusivamente dettata dalla chiusura o apertura del negativo con inserto a molla nella parte sottostante. Il pin della tazza sarà il collegamento della nostra 18650 che ha le stesse funzioni di un tubo meccanico portato in un sistema lamellare in cui il positivo, come in un tubo, va direttamente in contatto con il pin stesso della tazza. E il negativo è dato dalla lamella. Avendo un corpo isolante, in questo caso legno, ma le potete trovare anche in derling, la sezione esterna non è conduttiva. L'inserimento della batteria va fatto, in questo caso, senza installare l'atomizzatore sopra. Installo il mio positivo verso l'alto e il mio negativo verso il basso. Come vedete c'è del gioco. Quindi per andare a bloccare il mio positivo, quindi la mia 18650, vado ad avvitare il mio atomizzatore. Il mio pin della tazza va a spingere sopra il positivo della batteria. La mia batteria è bloccata. A questo punto vado a inserire il mio sportellino che va in contatto con la mia 18650 e anche in questo caso posso installare il mio escursore. Non ha solo un logo, ma questo qui, oltre che andarvi a chiudere questa sezione qua, vi permette anche l'espulsione della batteria. Prima vi faccio vedere, prima di farvela attivare. Per togliere la batteria ricordatevi sempre di allentare prima l'atomizzatore sopra la vostra box. A questo punto vado qui e spingo. Mi esce tutto. È molto semplice. Per andarlo a richiudere, rifaccio l'operazione. Ritorno a mettere la batteria positivo sempre rivolto all'alto e vado a riavvitare il mio atomizzatore. Una volta arrivato in battuta, la mia box è perfettamente bloccata. La mia K-mini è pronta. Volete fare del cloud? Con questo lo fate. Volete montare su un particolare tank e fare un MTL in assoluta leggerezza? Lo potete fare. Il tasto offre una corretta resistenza e anche leggermente incavo rispetto al piano di questa superficie. Quindi anche mettendolo in tasca non avete nessun rischio. Ma se lo desiderate, allentate leggermente l'atomizzatore sopra e la contattazione viene aperta. In questo caso io utilizzerò questo sistema per andare in modalità MTL. È delicato perché una meccanica erroga la potenza in base al valore resistivo che avete all'interno del vostro atomizzatore. Ma se volete qualcosa di più, ecco come si presenta la nostra K-mini montandoci sopra un bel dripper. Vediamo la sua reattività. Sta già ruggendo. Testiamolo. Ed esce tutta la potenza che questa meccanica riesce a darvi. È veramente favoloso. Ma lo potete utilizzare anche in modalità più morbide. Installo il mio strumento di verifica per quanto riguarda le box o in questo caso in questo parallelepipede di natura meccanica, la visione che ha il nostro franco camicia per quanto riguarda i tubi e vediamo se ci sono dispersioni o perdite. Come avete visto abbiamo i 0,5 ohm che sono i valori resistivi dati dalla mia resistenza. Valori veritieri. I 3,8 volt e i 32 watt che mi stava errogando in quel momento la mia 18650. Questo sta a indicare che tutte le contattazioni sono veramente esenti da perdite. Io prediligo in questo caso l'utilizzo nella modalità tank. È veramente qualcosa di sopraffino, di elegante. Questo legno con il cuore del nostro Italica Box Mod, del nostro maestro franco camicia, tra le nostre dita. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani, che è il mini. Questa veramente mancava al maestro franco camicia. Italica Box Mod. Italica Box Mod.